Buongiorno ragazzi, come state? Qui è domenica, non lo dico per vantarmi che lavoro, non sono così staccanovista ma devo ricambiare il favore a mia moglie che ha lavorato tutto giovedì e venerdì per sistemare quello che vedete alle mie spalle e non è ancora finito, vediamo se il cellulare mi permette di farvi vedere ancora c'è parecchia roba da sistemare ho approfitto dell'occasione, visto che sono qui da solo un attimino, per farvi un breve video e annunciarvi sotto forma di video quello che ho già detto in alcuni post che avete visto negli scorsi giorni sta cambiando qualcosa in casa Royal Pad voi sapete che Royal Pad è un'azienda polacca che produce dei tamponi siamo stati i primi in Italia a portare questo brand lo abbiamo fatto crescere ad un certo livello, siamo molto contenti del progresso che è stato fatto potevamo fare di più ma ci siamo un pochino fermati perché nel corso del tempo abbiamo avuto un pochino di problemi poi questi problemi si sono sommati alle problematiche relative al sito capitate appunto nello scorso anno e che ci hanno un pochino fermato a cosa mi riferisco in particolare? ve lo dico un po' per rendervi partecipi, un po' per farvi capire a volte cosa succede dietro un'azienda uno, ci sono state delle aziende che hanno falsificato questi tamponi infatti si vedono anche su ebay dei packaging diversi che in realtà non sono mai stati prodotti dall'azienda e inoltre sono passati da paesi come per esempio dalla stessa Polonia all'Italia senza autorizzazione voi sapete che ci sono dei contratti che tutelano l'esclusività territoriale quindi io in Italia non posso vendere in Germania perché in Germania ci sarà un rivenditore che applica dei prezzi adeguati a quel mercato purtroppo che cosa succedeva? si creavano anche dei gruppi d'acquisto che andavano a comprare in Polonia facendo quello che sarebbe sbagliato chiamarlo un illecito ma di sicuro un non rispetto di determinati contratti questo è stato segnalato più volte alla Royal Pad e questo problema ci ha impedito di crescere veramente come potevamo che cosa è successo? col tempo comunque il progresso della nostra azienda è stato manifesto alla Royal Pad e finalmente abbiamo firmato quindi a livello proprio legale un contratto di esclusività che ha confermato appunto il fatto che siamo gli unici in Italia ad avere questo brand, questo tipo di tamponi che a mio avviso sono rivoluzionari perché hanno le celle chiuse quindi per quanto sono, sono anche poco costosi in realtà ci danno un'arma in più laddove dobbiamo andare ad avere a che fare con delle vernici molto complesse difficili da rifinire poi chi ha comprato i nostri corsi ha capito anche perché io ci tengo tanto a questa cosa ed è l'unico brand praticamente che usa questo tipo di spugna ha anche una serie a celle aperte poi ne parleremo magari più avanti però insomma mi sono da sempre affezionato a questa azienda da oggi abbiamo l'esclusiva territoriale che cosa vuol dire? cose solo belle per voi perché? perché ad oggi avete la garanzia che se vi capita di avere tra le mani questo prodotto che non è stato comprato da noi due sono le cose e adesso è ormai chiarissimo uno, sono prodotti falsi se non li avete comprati da noi oppure sono stati portati illegalmente in Italia e quindi in ogni caso state se non facendo un reato state comunque aiutando una persona a fare qualcosa di sbagliato e queste persone poi saranno perseguibili nei loro paesi ok? e quindi questa cosa in realtà è già stata segnalata più volte al titolare e questa cosa non è stata gradita dagli attori di queste manovre che hanno carattere veramente disonesto e nonostante questo sono stato accusato io di avere un carattere mafioso vabbè a prescindere da questo il vantaggio qual è? se comprate da noi questo prodotto non solo avete la garanzia che il prodotto è originale ma finalmente abbiamo dei prezzi adeguati al nostro mercato quindi chi è stato fedele è stato premiato finalmente cosa intendo? intendo che questi tamponi dall'altissima qualità adesso costano molto meno perché appunto siamo riusciti a ordinare quantità adeguate quindi stiamo facendo viaggiare questo brand tantissimo e ne vediamo dei risultati anche a livello economico vi ricordate quando vi dicevo ragazzi se vi fidate di noi poi avete anche degli interessi economici quindi questo tampone per esempio che è il più venduto l'arancio da 5 pollici che inseriamo infatti praticamente in tutti i nostri kit costava attorno ai 9 euro prima che comunque era un ottimo prezzo adesso costa tipo 6,50 euro quindi è sceso di un 20-25% adesso c'è un'oscillazione diciamo tra un minimo del 18% su questi tamponi a un 25% in alcuni casi adesso non mi ricordo quale tampone però siamo scesi attorno a un 30% vi rendete conto del calo che c'è? praticamente adesso questi costano quanto i prodotti cinesi da Amazon cosa che vi sconsigliamo assolutamente perché poi dopo il termometro delle situazioni in Italia ce l'abbiamo abbastanza bene vista la mole dei clienti che trattiamo e sappiamo che molti clienti non hanno risultati accettabili poi andiamo a vedere cosa hai comprato, cosa hai usato e ho preso questo prodotto su Ebay, su Amazon e raga cioè da qualche parte la magagna ci deve essere in questo caso vi avete un prodotto che veramente è sceso di prezzo ma mantiene una qualità altissima poi vi forse riesco a farvelo vedere vedete questi bianchi lì dietro in realtà c'è un sacco di merce ancora da sistemare questi bianchi poi sono gli Ultimate che costeranno un po' di più e sono i prodotti quelli a celle aperte poi ve ne parlerò più avanti quindi ragazzi in definitiva sono contento di annunciarvi questa cosa presto avrete credo che mia moglie abbia già caricato sullo shop in realtà quasi tutto presto avrete un'immagine più chiara di quello che rappresenta questo brand spero di avervi fatto un annuncio gradito e arrivederci al prossimo video grazie a tutti